Musica Lunedì 2 gennaio, amici web spettatori, bentrovati su Unica Channel, prima edizione flash del 2012. Iniziamo subito con la politica. Il presidente del Consiglio Mario Monti si rivolge ai sindacati sulla questione lavoro. Cerchiamo la massima intesa, ma la prospettiva di recessione e disoccupazione preoccupa gli stessi sindacati. La leader della CGL Susanna Camusso avverte che c'è il rischio reale di tensioni sociali. Il nuovo anno inizia con una nuova impennata che riguarda i prezzi della benzina. Con i rialzi delle addizionali regionali sugli accise, oggi il prezzo della benzina sfiora l'euro e 74 al litro. La cronaca. Una donna di 87 anni è morta in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione di Colle Scipoli, in provincia di Terni. Non è ancora chiaro che cosa abbia potuto provocare le fiamme. Sono comunque in corso gli accertamenti da parte di vigili del fuoco e polizia. Passiamo al meteo. Messaggio di allerta da parte del Dipartimento della Protezione Civile. A partire da oggi, infatti, sono previsti temporali sulle regioni del centro-nord e forti venti su Sardegna e Martirreno. La pagina degli esteri. Iran. Il governo di Teheran ha annunciato il lancio di un missile a media gittata e l'utilizzo di una barra di uranio arricchito. Si vuole testare, il governo di Teheran vuole testare la propria capacità di chiudere lo stretto di Ormuz. Gli Stati Uniti minacciano nuove sanzioni economiche. E chiudiamo con lo sport calcio. Attendendo la ripresa del campionato di Serie A, il CT del Napoli, Walter Mazzarri, si confessa. Voglio un titolo con il Napoli al San Paolo. Poi dopo mi piacerebbe andare ad annelare all'estero. Era questa l'ultima notizia. Noi ci ritroviamo, come sempre, a partire dalle 15.30 con l'edizione completa del nostro WebTG. A tutti voi grazie della cortesia attenzione e buon inizio di settimana.